Un bersaglio al centro di Aida Sattaflores, l'ultima produzione dei Nomadi, è stata anche l'ultima occasione di vedere Augusto in sala di registrazione e in una sigla di un programma televisivo dato in onda su Rai 1. D'essersi di anche un po', puoi sentirti esperto come a un cowboy, ma quel bersaglio al centro non lo senti mai? Vuoi calcolare un desiderio prima che se la tua tenta cadrà, vittima di te, come un bambino ignaro e dolce tu sarai, perché un bersaglio al centro non avverti mai?